Nasce in Sicilia la figura di ispettore dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli a motore che sarà adeguatamente formata con corsi inseriti nel repertorio regionale delle qualificazioni con conseguente esame di abilitazione. Questo percorso innovativo è disposto da un decreto interassessoriale esigrato dagli assessori regionali all'istruzione alla formazione professionale Mimmo Turano e alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Ricò. Abbiamo recepito i contenuti dell'accordo inserendo il nuovo profilo di ispettore nel repertorio regionale delle qualificazioni, ha dichiarato l'assessore Turano in considerazione anche del compito attribuito alle regioni di erogare corsi di formazione teorico pratici di questo tipo attraverso soggetti accreditati e volendo rispondere ai bisogni del territorio siciliano. Da tempo abbiamo evidenziato la necessità di riorganizzare le attività delle motorizzazioni e questo è un primo atto concreto nei confronti delle esigenze dell'utenza, ha continuato l'assessore Ricò, ma anche per rendere i procedimenti amministrativi più trasparenti e meno permeabili a possibili pressioni illecite. Nel documento vengono evidenziati i requisiti, i compiti e responsabilità degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Gli ispettori formati, a concluso, saranno iscritti nel registro unico istituito al Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.